Scusate che siete stati il mio esempio perché era ancora nell'amore e nella coppia. Io oggi qui davanti a tutti i tuoi amici e i tuoi familiari ti dico che sono onorato di far parte di questa giornata speciale e di essere qui a fianco a te come testimone ma soprattutto come amico. Grazie per la visione!